In un Molise che viaggia spedito verso la sua scomparsa con 10.000 residenti persi solo negli ultimi 5 anni, con una previsione di 50.000 abitanti in meno nei prossimi decenni e con molti piccoli paesi nei quali da anni non nascono più bambini, in questo Molise dello spopolamento c'è un Molise che invece va contro tendenza e guadagna abitanti anziché perderli. Ebbene sì, ci sono zone della regione che non subiscono il più grave dei problemi di questa terra. In totale sono appena una ventina su 136 i comuni che negli ultimi 20 anni hanno visto aumentare la loro popolazione. Vediamole dunque queste zone franche, immuni dal fenomeno drammatico che invece distrugge tutto il resto. Partiamo dal capoluogo, se Campobasso è ormai stabilmente sotto la soglia dei 50.000 abitanti e perde terreno in maniera costante, è proprio attorno alla città molisana più importante che si registrano i dati migliori. Ci guadagnano insomma i comuni dell'Interland, innanzitutto Campo di Pietra, che in vent'anni è passato da 2.000 a 2.500 residenti, poi Ferrazzano da 3.100 a 3.300 e Mirabello da 1.800 a 2.100. Quindi il balzo in avanti di Oratino, da 1.300 a quasi 1.700, così come pure Ripalimosani, da 2.600 a 3.100 abitanti. A qualche chilometro di distanza da segnalare anche il caso di Vinchiaturo, che dal 2.000 al 2.019 passa da 2.800 residenti a 3.300. L'altra zona della regione che fa registrare dati positivi è la costa. Termoli passa da 30.000 a quasi 34.000 abitanti, Campomarino da 6.300 a 7.900, Petacciato da 3.400 a 3.800, San Giacomo degli Schiavoni da 1.100 a 1.400. Passando infine alla provincia di Isernia, oltre al leggero incremento del capoluogo che sfiora attualmente i 22.000 abitanti, tra i tanti piccoli comuni che registrano una inarrestabile emorragia di residenti, l'unico centro che fa registrare un incremento significativo è Pesche, che passa da 1.300 a quasi 1.700 abitanti.